Ebbene, eccomi qua! Eh sì, qui è Vira che vi parla, eh beh, su questo sono io. Novità, novità, parliamo un po' delle novità. Allora, parlando delle novità, presto molto pro... Ho sentito nulla? Presto, molto probabilmente presto, sul canale verranno caricate alcuni video. È da tempo a cui ci sto lavorando e spero che siano di vostro gradimento. Ok? Beh, volevo solo farvi sapere che il work in progress è in progress. C'è un progress del work in progress, quindi sì. Ci saranno presto dei video, alcuni lunghi, alcuni corti, conoscete la mia tipologia di video. Per il resto, nulla, non ho nient'altro da dirvi. Si sta avvicinando l'estate e le mosche sono padrone, praticamente. Per il resto, non saprei cosa dire, no. Cioè, questo è un video improvvisato, non era neanche previsto. Ma sì. Quindi direi che il video si può concludere qui. Se siete curiosi, se avete delle richieste, qualcosa in particolare, scrivetelo qui sotto nei commenti. E dovete anche sapere che presto ci saranno anche delle nuove serie. Ci stiamo avvicinando ai 900. E tra un po' ci avviciniamo ai 1000. Quindi nuove serie, sempre nuove, sempre particolari, sempre genere Viral. E torneranno anche dei video con la maschera, naturalmente. Quindi, beh, ci si vede presto. Qui Viral, chiudo.